Vi ringrazio, buongiorno a tutti. Oggi è un giorno, si può dire, storico per la Campania, perché è il primo punto in Campania che il Movimento 5 Stelle mette a disposizione dei cittadini vessati ormai da anni da una pratica di riscossione che noi riteniamo non sia più una pratica sopportabile. È una pratica di riscossione inumana e a tal punto che parecchie persone, oltre ad avere dei debiti esponenziali poi rispetto al dovuto, purtroppo non riescono neanche più a dormire sogni tranquilli, quindi a stare proprio tranquillamente in famiglia. Quindi abbiamo pensato non soltanto di offrire un'assistenza professionale, ma un'assistenza anche psicologica. Ovviamente questa assistenza viene offerta gratuitamente da cittadini volenterosi, da persone di buona volontà. Oggi quindi presentiamo, così come è stato fatto in altre regioni d'Italia, qui a Bolla, proprio questo c'è. C'è con noi il nostro Carlo Subilia, portavoce alla Camera dei Deputati, il nostro Vicepresidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio, il nostro portavoce al Consiglio regionale Tommaso Malerba e ovviamente tutti gli attivisti di Bolla che si sono prodigati a far sì che questo centro anti-Equitalia fosse aperto proprio qui. Bene, io mi taccio e passo la parola al Vicepresidente Luigi Di Maio. Sì, io semplicemente voglio prima di tutto ringraziare gli attivisti che hanno organizzato e che hanno messo a punto questo centro, Tommaso Malerba che sarà un po' il punto di riferimento per questa iniziativa in tutta la campagna, se ho capito bene, e Carlo Sibiglia che ormai sono mesi, che gira tutta Italia per far nascere questi centri. Noi abbiamo dall'inizio della legislatura e soprattutto da quando esiste il Movimento una particolare sensibilità verso la piccola e media impresa italiana. Lo abbiamo dimostrato più volte e nasce questa sensibilità dalla consapevolezza che il 99% delle imprese italiane sono piccole e medie e l'80% di questo 99% è fatto da imprese che non hanno più di 10 dipendenti. Infatti quello che poi ai tavoli europei esce sempre è che secondo i signori euroburocrati dell'Europa le nostre imprese sono troppo deboli, il nostro tessuto economico è troppo debole proprio perché è fatto dalla piccola e media impresa italiana. Salvo poi, quando li porti in piccole imprese come quelle del Made in Italy in Italia, come quelle artigiane, come quelle manifatturiere, come quelle agroalimentari, si ricredono perché sanno benissimo che quella è la nostra più grande potenza. Oggi noi non solo siamo l'unico gruppo politico di tutto l'Occidente che tagliandosi lo stipendio fa partire nuove imprese e ha creato già 630 nuove imprese in tre mesi dando almeno 1200 nuovi posti di lavoro in Italia solo con 14 milioni di euro di stipendi tagliati ai parlamentari del Movimento 5 Stelle. Ma siamo anche quelli che fanno da scudo a queste imprese e alle famiglie in generale. Dopo Carlo Sibilla lo spiegherà nello specifico ma è vero che bisogna far nascere nuove imprese ma non bisogna far morire quelle che esistono che è un grande problema in Italia la mortalità di impresa che deriva a volte per un terzo dei casi dal mercato che non c'è più ma per gli altri due terzi dalla burocrazia, da Equitalia, dall'Agenzia delle Entrate e da una serie di errori che fa lo Stato che è uno Stato ad oggi e speriamo ancora per poco che non mette al centro delle politiche pubbliche la persona ma mette al centro delle politiche pubbliche gli affari. Se io guardo ad Equitalia guardo ad un ente un mostro che fa il debole con i forti e il forte con i deboli. Noi quando entriamo nei comuni dove governiamo la prima cosa che facciamo è cacciare Equitalia da quei comuni e iniziare a fare la riscossione noi. Che cosa significa? Significa fare una riscossione più coscienziosa significa fare una riscossione in cui se un commerciante mi deve 100 euro per la tassa sulla tenda non gli mando una cartella di Equitalia dopo sei mesi o un anno di 6.000 euro ma faccio in modo che quel commerciante mi dia 100 euro con un piano di dilazioni e di agevolazioni perché io ente pubblico ho interesse a prendere quei soldi non a far fallire o a far impiccare il cittadino che ha l'impresa. Questa è l'iniziativa che vogliamo portare avanti con i centri Equitalia in tutta Italia ma è anche un'idea di paese cioè signori noi vi stiamo dicendo che se alle prossime elezioni politiche noi dovessimo essere investiti da voi come il governo di questo paese noi Equitalia la soppremiamo con due righe di legge e nient'altro non ci vuole chissà che cosa dopodiché iniziamo a fare una riscossione totalmente differente ringrazio anche tutti i professionisti che si metteranno a disposizione i consulenti che si metteranno a disposizione in questo centro perché è importantissimo poi far capire la vera utilità alle persone la cosa più importante sarà spiegare che c'è veramente una forza politica che disinteressatamente vuole dare una mano a chi è vessato da Equitalia senza farci soldi e senza farci lucro politico che è un grande problema nella nostra terra e infatti poi sono sicuro che andrà bene qui e avremo bisogno di tanti altri centri come questo per sopperire alla domanda che arriverà io veramente voglio ringraziare Carlo per quello che sta facendo c'è un sito internet con tutto il gruppo anche parlamentare a Roma che stiamo portando avanti in tutta Italia c'è il sito internet di questa iniziativa e siccome ci stanno ascoltando magari ci sono dirette in questo momento createlo il più possibile in tutta Italia perché qui si tratta di salvare le vite se ci mettiamo tra l'aggressività di Equitalia verso i più deboli e il cittadino che è inerme e che molte volte non ha neanche i soldi per rivolgersi ad un professionista noi salviamo le vite, salviamo le imprese cioè salviamo l'economia e il benessere delle famiglie italiane grazie prego Carlo allora grazie a tutti grazie a Luigi, grazie a Sergio, grazie a Tommaso e tutti quelli che stanno collaborando per questa iniziativa ringrazio voi per seguirci e tutti gli attivisti che hanno reso possibile oggi questo momento se noi riusciamo in questa giornata a inaugurare quello che io sostengo essere un presidio di sicurezza e assistenza per i cittadini italiani e per le imprese chiaramente questo è un concetto la sicurezza e assistenza oggi è un concetto quanto mai fondamentale non ci non possiamo negare che sono dei momenti particolari della storia della nostra Europa della nostra Repubblica arrivano minacce continue dall'esterno noi non ci possiamo permettere di avere anche minacce interne questa è la verità quindi per noi i punti di soccorso anti-equitalia sono dei punti di sicurezza e assistenza al cittadino cioè fare qualcosa che lo Stato ha dimenticato di fare è fondamentale spiegare alle persone che allo Stato attuale Equitalia non colpisce gli evasori fiscali noi veniamo da 15 giorni da una settimana di un decreto legge che si chiama voluntary disclosure dietro queste parole inglesi nascondono delle truffe all'italiana dove richiedono a delle persone i veri evasori i veri evasori quelli che hanno portato miliardi stiamo parlando di miliardi di euro all'estero grazie proprio all'illusione del fisco al fatto che alcune leggi siano state ben larghe magari qualche introito viene dalla criminalità organizzata dal commercio della droga e di sostanze stupefacenti di sostanze illegali magari anche delle armi all'isis però queste persone che hanno messo i soldi all'estero oggi vengono scudate protette gli viene detto se tu ci dici dove ce li hai noi semplicemente ti abboniamo quella che è la frode fiscale che hai commesso quindi da un lato abbiamo uno stato che aiuta l'evasione fiscale e depenalizza l'evasione fiscale dall'altro lato sempre in quei giorni la cosa triste è che uno dei meccanismi che era più utilizzato per la difesa del cittadino con Equitalia è il meccanismo della sospensiva in autotutela questa parola che sembra assurda ma che dà la possibilità ai cittadini al semplice costo di una raccomandata di potersi tutelare da un eventuale errore che commette Equitalia e Equitalia di errori ne commette sistematicamente allora questo articoletto viene cancellato grazie a una legge delega che viene messa appunto dal ministero il ministero si fa scudo di questa legge e cancella questa possibilità quindi in questo momento c'è uno stato che aiuta gli evasori eleva tutti gli strumenti di tutela dei cittadini italiani rispetto agli errori di Equitalia questo è il grande paradosso allora noi facciamo una cosa molto semplice con il centro Equitalia il centro Equitalia nasce dall'esigenza dei cittadini non di dire guardate che noi dobbiamo trovare un modo per pagare meno tasse la gente che oggi prende una cartella di Equitalia non è la gente che non ha pagato le tasse è gente che dice io oggi caro Stato o ti pago questa cartella o pago i miei dipendenti o faccio mangiare la mia famiglia questo è è un dato di fatto oggi Equitalia anche come struttura è una struttura che ha fallito il suo compito che era quello di meccanizzare la riscossione ma che non è successo di fatto ad Equitalia sono stati assegnati 850 miliardi da riscuotere e in tutta la sua attività negli ultimi 15 anni ne ha ricosti il 7% cioè ogni azienda che deve fare questo tipo di attività qualsiasi altra azienda privata che avesse avuto questo tipo di numeri sarebbe fallita domani mattina l'avrebbero chiusa allora Equitalia è un mostro fallimentare il Movimento 5 Stelle mette al primo punto la battaglia come non con le chiacchiere che fanno gli altri partiti e le opposizioni la prima proposta di legge che ha presentato il Movimento 5 Stelle che approda in aula è stata proprio quella di abolire Equitalia quattro articoli di una semplicità unica abolire Equitalia e passare le competenze alle agenzie delle entrate attraverso un concorso riassorbire i 8.000 dipendenti i 5.000 dipendenti perché poi altri sono dirigenti a consulente non entriamo proprio nei dettagli e un'altra parte è quella di unificare quello che è il tasso di interesse all'Uribor a 12 mesi e poi il quarto era di attuazione per la prima volta nella storia della Repubblica viene presentato un emendamento della maggioranza che dice questo vengono aboliti gli articoli 1 2 3 e 4 questo è lo stato di democrazia di questo paese la maggioranza si vota questo emendamento e la proposta di legge viene cassata cancellata pensate che Buttiglione che non è proprio uno diciamo giovanissimo è uno che si è fatto una bella trentina d'anni in quel Parlamento si alza e dice io questa cosa non l'ho mai vista fare e si astiene prima di voi non per gestificare Buttiglione ma si astiene per farvi capire quanto che si astiene addirittura Buttiglione quindi siamo siamo all'assurdo siamo all'assurdo purtroppo noi ci ridiamo ma collegato ad Equitalia c'è un fattore incredibile di gravità che è quello dei suicidi Equitalia è una di quelle cose che ti piomba addosso ed è una di quelle cause che ti fa arrivare anche a questo è per questo che noi all'interno dei punti Equitalia SOS Equitalia non solo diamo un ascolto un'assistenza fatta da volontari e da persone che poi si sono attivate sul territorio ma anche psicologica cioè noi prevediamo che ci sia una persona ove possibile ove riusciamo ad organizzarci che dia un'assistenza psicologica a queste persone oggi la statistica sui suicidi l'ISTAT l'ha cancellata le proprie statistiche dal 2011 da quando è cominciata la crisi l'ISTAT non raccoglie più i dati sui suicidi economici strano caso noi chiaramente attraverso la ricerca della Lean Campus University oggi siamo capaci di avere un minimo di raffronto vi posso assicurare che da 2014 al 2015 sono in aumento del 50% in Grecia nel momento in cui era il top della crisi i suicidi economici erano aumentati del 35% cioè noi stiamo praticamente lo Stato sta coprendo quella che è una situazione di una gravità inaudita allora noi chiaramente avremmo potuto oggi dire da forza d'opposizione abbiamo detto vabbè vi abbiamo presentato la legge ce l'hanno bocciata e potevamo andare avanti di così fino a fine della riscatura noi abbiamo voluto fare un passo in più perché oggi la cosa fondamentale che abbiamo capito è che là dentro forse ci sono persone che sono contro i cittadini italiani contro la sicurezza dei cittadini italiani noi abbiamo il dovere morale perché siamo un movimento civico prima che una forza politica di dover dare una mano ai cittadini dove non arriva la legge dove non arriva lo Stato arriva il movimento 5 Stelle ed è per questo che noi oggi creiamo questa rete di punti di risposta di soccorso di Equitalia su tutto il territorio nazionale primo esperimento a Cagliari vi do qualche numero primo esperimento l'abbiamo fatto a Cagliari dopo un mese un mese e mezzo di attività abbiamo ve li leggo per essere preciso abbiamo trattato cartelle per 4,6 milioni di euro abbiamo richiesto sgravi per 613 milioni di euro e abbiamo scoperto 47 mila euro di cartelle Equitalia non dovute quindi abbiamo fatto risparmiare 47 mila euro ai cittadini italiani 32 mila euro di cartelle decadute cioè Equitalia ti chiede delle cose che non hai il diritto di chiederti e vi faccio anche qualche esempio perché questa è la parte più concreta e bella di questa attività che tu hai i documenti alla mano per dimostrare alle persone che quello che diciamo è per esempio vi faccio vedere questa che è una cartella che arriva da Equitalia in Calabria ed è una cartella di un bollo auto che viene richiesta a 4 anni dall'emissione il bollo auto si prescrive a 3 anni com'è possibile che un ente statale che dovrebbe essere il primo che conosce le attività e le leggi dello Stato ci manda una cartella del genere? non si sa queste sono quelle storture che poi quando viene il punto c'è Tommaso ci sono gli attivisti del Movimento 5 Stelle che gliela metti davanti te la leggono e ti dicono questa roba qui è in prescrizione non va a pagare poi ci sono cartelle come questa che vengono richieste ai cittadini senza la notifica adesso vi faccio vedere perché questa è veramente interessante eccola qui questa è una notifica fatta da Equitalia non c'è scritto niente questa è arrivata a un cittadino non c'è scritto chi ha notificato per conto di chi quando l'ha stata notificata e l'Equitalia ci chiede dei soldi con questo tipo di attività senza un timbro senza nessuna attestazione di notifica quindi ci chiedono i soldi senza nemmeno avvertirci guarda ci serve questo per questo motivo no questa è un tipo di attività che sicuramente non è legale perché questa non dovrebbe essere non dovrebbe neanche arrivare al cittadino allora questo tipo di cartelle voi venite qui c'è qualcuno che vi dà una mano oggi se vai da Equitalia molto spesso succede che ti dicono eh devi chiamare l'avvocato devi chiamare il commercialista per fartela cancellare se non è mai stata notificata quella cartella non esiste e quindi in realtà non può essere non può essere trattata quindi deve essere cancellata da Equitalia non devo chiamare il commercialista poi vi dico casi come quello che mi hanno segnalato pochi giorni fa di una persona che ha ricevuto una cartella di 150 euro attenzione agli importi 150 euro di un'iva evasa secondo lo Stato di 2,50 euro 10 anni fa però perché ti arriva la cartella di 150 euro perché chiaramente non ti conviene più andare dal commercialista oppure all'avvocato e fare un ricorso perché chiaramente spenderesti di più questo non è un caso questo è un modus operandi perché su queste cifre qui si fanno i soldoni cosa che non fanno con i grandi evasori i grandi evasori hanno tanti soldi da dare non vengono toccati e gli altri sì vi dico solo una cosa settimana scorsa abbiamo aperto il punto in Calabria e nel primo giorno di attività sono state consultate sono arrivate 38 persone da tutta la Calabria che si sono consultate con il nostro punto civico hanno avuto tutte e 38 la loro assistenza e tutte quante sono tornate a casa soddisfatte da quello che abbiamo avuto modo di vedere abbiamo trattato cartelle per 450.000 euro del range che batte 350.000 e 200.000 euro di cartelle e abbiamo avuto anche l'occasione di utilizzare quello che è il professionista relativo all'aspetto psicologico quindi è una cosa che funziona nel momento esatto in cui viene creata quindi questo è quello che ci aspettiamo anche che succeda in campagna dico due cose e poi chiudo cosa non è il centro il centro non è un centro di consulenza noi non facciamo consulenza noi siamo un supporto magari ai professionisti quindi non è per sostituirci ai professionisti ai avvocati commercialisti tributaristi loro fanno il loro lavoro noi diamo una prima assistenza qual è il concetto invece di prendere una cartella equitale e metterti le mani nei capelli perché questo è quello che succede vai da qualcuno di cui ti fidi una persona credibile perché dimostra credibilità in quello che fa nelle sue attività e ti dà un minimo di assistenza e di quello che stiamo parlando e questo è l'obiettivo che noi abbiamo anche nel futuro ancora questo punto è regionale quell'esperimento che stiamo portando avanti se mi puoi dare un attimo la cartina è di avere un punto per ogni regione questi sono attualmente gli esperimenti che stiamo portando avanti quindi è bene che tutte le persone del Movimento 5 Stelle tutti gli attivisti tutti quelli che vogliono dare una mano anche negli altri posti della regione e che quindi vogliono anche loro attivarsi per questa battaglia al fine di abolire Equitalia diano una mano a quello che è questo punto perché questo è l'esperimento iniziale che deve funzionare è una cosa fondamentale tutti quanti tutta la campagna unita deve riuscire a dire questo è l'esempio che abbiamo portato avanti e questo esempio funziona nel momento in cui dovesse funzionare in una maniera regolare o precisa come vogliamo noi questa cosa si diffonderà anche in altri punti della campagna come oggi si sta diffondendo in altri punti d'Italia questo centro serve a dare assistenza ai cittadini e sicurezza ai cittadini ma dall'altro lato come vedete a questo tavolo ci sono senatori deputati consiglieri regionali immaginate quante storture legislative noi possiamo andare ad individuare leggendo le vostre cartelle i problemi che avete e proporre fare proposte di legge iniziative legislative raccolte firme tutto quello che serve per avere finalmente una discussione equa che sia rispettosa dell'articolo 53 della Costituzione che dice che ognuno deve contribuire ad attivare lo Stato per quello che può io vi ringrazio io sarò breve per due ordini di fattori il primo è che ascoltare queste persone credo che sia chiaro quello che stiamo facendo il secondo è che che non sempre dicono tutto però non è questo il problema mi limito brevemente a spiegare innanzitutto in termini movimentisti e politici che noi siamo persone che siamo coerenti e manteniamo sempre quello che diciamo e questo lo dimostra non raccontiamo balle nego balle alla di Luca ma cerchiamo di essere coerenti e ci attiviamo con il solito spirito che ci contraddistingue ci organizziamo dal basso vi spiego tutto questo anche come è nato è nato su base volontaria cittadini fuori e dentro le istituzioni si organizzano mettono a disposizione competenze mezzi strumenti per un solo fattore accompagnare i nostri concittadini anche verso la pubblica amministrazione che spesso non svolge bene il suo compito e anche perché in questo momento storico abbiamo una nazione che è instabile sotto un aspetto sociale e politico questo noi dobbiamo combatterlo e non è normale che imprenditori si ammazzano non è normale che le persone a casa quando arriva una cartella di Guitalia essime un'estorsione il nostro compito è accompagnarli in un processo amministrativo fargli capire come dice spesso Luigi Di Rubbo una sua battuta giustissima il cittadino si fa stato avere contezza consapevolezza che nei processi amministrativi basta capire che spesso un tributo non è più esigibile non è dovuto e ricordarvi anche che nei comuni dove governiamo questo ente strumentale vessatorio e poltronificio è stato già abolito l'obiettivo finale sarà questo quindi il nostro obiettivo è accompagnare le persone in questo processo per dare una consulenza che parte da basso condivisa e far creare le persone che noi siamo per il pagamento delle tasse ma non per quello che non è dovuto e cerchiamo anche che un'amministrazione o uno Stato sia vicino ai cittadini gli aiuti a poter esercitare le loro professioni a vivere ma non essere insomma oppressi con un sistema vessatorio che è la Tastazione di Equitalia vi ringrazio della vostra partecipazione grazie a tutti grazie a tutti il tempo che ci avete dedicato ora stiamo un po' insieme e volevo e volevo anche anzitutto far venire un attimo Dario che è rappresenta è uno dei nostri attivisti di Volla un cittadino uno di cittadini uno di cittadini bene noi dobbiamo ovviamente Dario rappresenta il gruppo di Volla in questo momento non perché è attenzione perché magari poi quando si parla di rappresentante subito qualcuno dice avete eletto rappresenta nel senso che in questo momento lui è il gruppo altrimenti avrei dovuto chiamare tutti quanti ma in questo momento c'è Dario bene allora ti lascio la parola Dario grazie dopo stiamo un po' insieme facciamo qualche domanda che sicuramente vi è venuta in mente bene Dario prego allora va bene se per Tommaso è difficile parlare dopo Carlo Sergio e Luigi per me c'è poco da dire io semplicemente volevo ringraziare comunque tutti gli attivisti di Volla di Marano di Villa Ricca che stanno partecipando al progetto Antiequitalia perché è un progetto in cui abbiamo creduto sin dall'inizio un progetto che è diventato poi una missione perché la complessità di quello che stiamo facendo che ci porta ad aiutare altre persone è veramente grande è stato difficile perché coordinarci con Tommaso e Regione che ha suoi affari con Carlo che è venuto anche lui e Regione per darci una mano spiegarci come ci dovevamo muovere però ci ha portato a costruire questo senza spendere un euro come è nello spirito del movimento infatti comunque c'è da ringraziare chi ci ha donato chi il computer chi la fotocopiatrice chi ci ha messo a disposizione questo spazio che sta aiutando tanto noi e ci permette di dare aiuto ai cittadini siamo passati per Imola dove siamo partiti con tanto entusiasmo e abbiamo studiato perché da quando avevamo l'autotutela che ci dava un aiuto grandissimo poi giustamente era una cosa che funzionava e il governo ha deciso di abolirla però noi non ci siamo arresi abbiamo continuato a combattere a lavorare a metterci in impegno perché comunque una scappatoia si trova sempre per aiutare i cittadini perché noi vogliamo solamente aiutare i cittadini e questa è la nostra gioia noi non facciamo questo per propaganda perché questi sono fatti e non parole che vanno al vento noi qui stiamo dando un supporto a chiunque ne abbia bisogno che sia del Movimento 5 Stelle e che non lo sia perché i cittadini per noi hanno tutti quanti uguale diritto anche se le politiche diverse voglio solamente ringraziare i cittadini e gli attivisti tutto qua grazie 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 grazie